Radio streghetta l'oroscopo benvenuti al servizio di oroscopo offerto dalla rinascente tel chiama il servizio valore aggiunto 899 48 43 43 ariete non potrete sottrarvi a una scelta vi troverete in una situazione che vi costringerà a prendere una decisione netta in amore cercate di essere diplomatici toro attenzione ai giudizi affrettati rischierete rischierete di perdere un affare molto vantaggioso a causa della vostra testardaggine nel voler decidere preventivamente sulla base delle sensazioni ma il provvidenziale intervento da parte di un familiare vi farà riflettere ma la decisione spetterà comunque a voi in amore nessun sussulto Gemelli vedrete tutto sotto una diversa luce la giornata infatti sarà caratterizzata dalla riscoperta di oggetti e sensazioni che analizzerete da un'altra prospettiva accogliendo l'occasione per ripensare ad alcuni avvenimenti accaduti da poco osservandone gli effetti in amore troverete naturale dare più del solito cancro dovrete abbandonare la partita un paio di errori di troppo vi hanno costretto ad esistere ma i danni saranno trascurabili dovrete tenere a bada la frustrazione che vi rischia di rivelarsi addosso anche alle persone che vi vogliono bene e che non ne hanno colpa in amore terrete duro sulle vostre posizioni senza cedere leone attenti alle insidie evitate di essere troppo precipitosi nel fare qualcosa perché sotto una patina di tranquillità potrebbe celarsi è un pericolo invisibile dato date ascolto ai consigli delle persone più esperte e dubitate di chi dovesse tentare di coinvolgervi in qualche attività strana in amore supererete un limite vergine la vittoria è vicina nel lavoro andrete incontro a una sfida vittoriosa con chi pensa di saperne più di voi in amore vi sentirete incompresi e dimenticati ma passerà bilancia un soldino per un vostro pensiero la persona che amate cercherà di capirvi ogni vostro minimo pensiero perché evidentemente potreste apparire troppo pensierosi cercate di parlare un po più e vedrete che questo gioverà anche al rapporto scorpione le certezze si rafforzeranno oggi comprenderete la vostra centralità di un progetto che vi affascina e vi alletta in amore si avvicina il momento di prendere scelte importanti sagittario qualcuno vi sottoporrà una prova supererete il test senza alcuna difficoltà e questo accrescerà le vostre credenziali per ciò che riguarda l'ambito lavorativo si potrebbe verificare la necessità di effettuare piccoli trasporti durante la giornata in amore cercherete di mettere ordine di un caos di emozioni contrastanti capricorno tutti vi faranno apparire un po freddi e distanti da una situazione non familiare ma lavorativa o sociale che vi innervosirà un pochino in quanto voi riterrete di avere delle ottime ragioni in amore una telefonata o un messaggio in più di chi amate non guasterebbe acquario il solito tran tran vi renderà tranquilli troverete nella quotidianità quella serenità che stavate cercando e questa sensazione di sicurezza vi predisporrà a provare qualcosa di nuovo nel proseguo della giornata lasciandovi guidare dall'istinto e potrete vivere un momento emozionante pesci tutti i buoni propositi degli ultimi mesi riguardo a una faccenda che assolutamente vi stava a cuore ha preso improvvisamente tempo e questo vi renderà abbastanza nervosetti giustamente direi ma cercate almeno di consolarvi con l'amore che invece sembra aver superato quei momenti di domande senza risposta grazie 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 grazie